A mamma fa... però dico che in ogni caso ci sarebbe stato un problema. Qui è una questione strategica. Io è chiaro che con la destra non ci voglio avere niente a che fare, ma neanche... cioè io uso per scrivere la destra, altro non voglio sapere. Anzi, in qualità di capotelegazione chiederò nella ridistribuzione dei posti all'interno del Parlamento europeo di andare al centro, come succede al Parlamento nazionale e nei Parlamenti regionali. Noi non vogliamo avere nessuna connotazione ideologica, che sia chiaro che noi con la destra non ci entriamo niente. Per quanto molti giornali vogliono provare a far intendere questo, cioè che si capisca che è una cosa strategica e noi con la destra non ci entriamo proprio niente. E l'abbiamo messo in chiaro a tutte le delegazioni come condizio sine qua nonno per entrare nel gruppo, cioè che nessuno ci venga a portare dentro istanze caratterizzate ideologicamente in un modo o nell'altro. Quindi per tutte le tematiche che possono sembrare di destra noi ci troveremo in disaccordo e l'abbiamo messo in chiaro. Non ci sono linee di dubbio su questo tema.